Parla Pugliese la campagna di riconciliazione all'interno di Forza Italia. A lanciarla il leader Lafayle Fitto, che per serrare le fila del partito alla conquista dei seggi europei, ha proposto ai cinque capolista di Forza Italia di aprire insieme la campagna nazionale con una mega manifestazione il 4 maggio a Bari. Lo ha ribadito dal palco del cinema moderno della sua maglia, una delle piazze in cui il candidato Salentino è maggiormente radicato, a sgombrare il campo da presunte divisioni maturate negli ultimi mesi proprio intorno alle candidature e ha già raccolto un coro di consensi in vista dell'obiettivo comune di sbancare alle urne. I venti di pace è un modo per sgombrare il campo dai dubbi sui venti di guerra? Ma i venti di guerra sono da parte di chi pensa di sentire andando via. In un partito si sta, si dice la propria opinione, ci si confronta e poi ci si ricompatta in modo serio nel rapporto con gli elettori. Noi oggi abbiamo l'obbligo di dare questo segnale ai nostri elettori. Abbiamo un partito unitario che in modo univoco porta avanti una sua campagna elettorale. Si spera ovviamente nella presenza di Berlusconi. L'ho sentito ed è entusiasta e io mi auguro che gli sarà data la possibilità con le difficoltà note a tutti di poter essere presente.